Convergenza S.P.A. Società Benefit ha inaugurato la nuova sede commerciale ad Avellino, tappa fondamentale del processo di espansione territoriale al di fuori del Cilento. L'apertura della nuova sede conferma la volontà da parte di Convergenza di espandersi nel mercato italiano e di essere presente in nuovi territori, in seguito all'avvio dell'operatività della nuova sede a Napoli nel centro direzionale per la divisione Volseil, la sede toscana di Poggi Bonzi nel mese di febbraio e all'inaugurazione di un point a Pinsolo in Trentino Alto Adige nel 2020. La scelta di presidiare la provincia di Avellino permette di rafforzare il legame con il territorio campano tramite un nuovo punto di presenza che si aggiunge alla sede principale di Convergenza a Capaccio Pestum e ai distaccamenti di Battipaglia e Trentinara. La nuova sede che si trova presso gli uffici di Soft Technology ad Avellino svolgerà una funzione prettamente commerciale fungendo dal nuovo punto di rappresentanza aziendale per sviluppare sia nuove potenziali relazioni sia per approfondire i rapporti con i clienti attuali della provincia di Avellino oltre che con le istituzioni e i rappresentanti del territorio. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Avellino Gianluca Festa, delle istituzioni per la promozione del territorio e dei rappresentanti dell'imprenditoria locale. L'apertura della nuova sede segna l'inizio di una promettente storia di presenza commerciale diretta in una provincia ad alto potenziale, ha commentato Rosario Pingaro, amministratore delegato e presidente di Convergenze. Essere presenti come azienda in quest'area ci dà la possibilità di assistere i nostri clienti in prima persona. Seguire direttamente il cliente per ogni necessità è un nostro punto di forza ed una caratteristica del nostro approccio, da sempre molto apprezzata. Proseguiremo ora lo sviluppo aziendale a livello sovraregionale al fine di essere presenti non solo virtualmente, ma direttamente in tutta Italia dopo essere sbarcati in Toscana e in Trentino Alto Adice negli scorsi mesi.